Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare il secondo GDR che in tutti questi anni, se devo dire la verità, è stato uno di quelli che mi ha intrigato assolutamente di più. Ve ne ho trattati diversi sul canale, l'avete visto di diversi editori e tutto quanto, vecchie glorie del passato che tornano con nuove edizioni spettacolari, una roba disumana, e lo sapete, ve l'ho sempre detto, che il mio GDR preferito al momento è quello che attendevo più di tutti, era Alien della Fria Ligan. Però il secondo che veramente mi aveva intrigato un casino, perché da grande fanatico, sono sempre stata alla fin fine, di mitologia non rena e celtica, in particolar modo quella celtica, ero sempre stato molto interessato a questo Trudvang Chronicles, un gioco della Riot Mines, edizione italiana ovviamente di Weird Edizioni, e ve ne parlo a breve dopo la sigla. Trudvang Chronicles, in questa edizione italiana, come detta, cura della Weird Edizioni, che io ovviamente ringrazio di cuore come sempre, ed è sempre un piacere immenso ovviamente, ed un onore collaborare con voi. Quindi grazie ragazzi di avermi offerto questa copia per la recensione, grazie di cuore Elisabetta. Vedete qui davanti tre manuali, è preciso subito una cosa, e poi ovviamente vi dirò anche il perché a fine, nella valutazione riprenderemo un attimino il discorso. Qui al centro il manuale del giocatore, qui accanto il bestiario, quindi tutto quello che comprende i mostri, e da quest'altra parte la guida del Dungeon Master, perché questo gioco, Trudvang Chronicles, a differenza, vi prendo l'esempio classico, di un gioco come Dungeon & Dragons, che ci dà il manuale del giocatore, e poi ci dà il manuale del Dungeon Master, che si possono anche acquistare separatamente, perché nel manuale del giocatore ci sono tutte le regole, non solo per la creazione del personaggio, ma anche proprio tutte le regole per giocare, mentre nel manuale del Dungeon Master c'è tutto quello che compete la narrazione del Dungeon Master, quindi il manuale tra molte virgolette segreto, che soltanto il Dungeon Master deve leggere, dove magari c'è il bestiario, dove a parte il bestiario ormai tutti i giochi di ruolo fanno sempre un manuale a parte, comunque diciamo i primi mostri, e più che altro le regole opzionali per il Dungeon Master, che non è il caso di Trudvang Chronicles, perché in Trudvang nel manuale del giocatore trovate tutto il necessario, anzi forse di più che tanti altri giochi di ruolo, e questa è una cosa che secondo me gli do un voto in più, per la creazione del vostro personaggio, tutto, dalla A alla Z, storia, archetipo, classe, abilità, caratteristiche, tutto, però non ci sono le regole, e questi tre manuali vengono venduti separatamente, sul sito della Weird c'era un bundle che è finito, ma si trova comunque, un bundle che voleva dire che erano tutti e tre dentro una scatola, quello è finito, comunque potete sempre comprare il Triss senza la scatola, in un pacchettino tutti insieme, perché come dicevo nel manuale del giocatore ci sono tutte le regole per crearvi il PG, tutto, non manca niente, forse anche di più, e nella guida del Dungeon Master, anzi la lascio per ultima, nel bestiario ci sono tutte le creature, quindi si parla di tutte le creature, un po' d'ambientazione, però più che altro tutti i mostri che andete ad affrontare in questa ambientazione, e ce n'è veramente uno sbotto, che si rifà dalla mitologia ovviamente non rena e celtica, e poi c'è la guida del Dungeon Master che vi dà l'ambientazione del gioco, quindi l'ambientazione non la trovate nel manuale del giocatore, la trovate in quella del Dungeon Master e nella guida del Dungeon Master ci sono tutte le regole per giocare, che poi, speriamo non cada niente, le regole di gioco sono semplicemente il tiro di un dado da 10 per l'iniziativa, il tiro di un dado da 10 per i danni dell'arma, danni dell'arma che possono avere anche i tiri aperti, nel caso, non lo so, un'arma a due mani, dall'8 al 10 ti permette di ritirare il dado ogni volta che fai 8 e 10 di sommare il danno, così da fare un colpo critico disumano. Tutte le regole che trovate nella guida del Dungeon Master e non negli altri manuali, in più il tiro di un D20, le prove, combattimento e cose del genere si fanno tirando un D20, le prove di iniziativa e di danni si fanno con un D10, questi sono i dadi che vengono usati appunto in Truth Van Chronicles. E ora vi faccio vedere un pochino il manuale da vicino, un po' ve li descrivo, manuale del giocatore, ma ve lo faccio vedere per ultimo, prima vi faccio vedere qualcos'altro. Tra l'altro, ogni cosa, mi soffermo un attimo, guardate i disegni, cioè guardate i disegni, sono di una bellezza, non è fatto in uno stile, come a volte ci vede Epic Fantasy, oppure in uno stile come quello un pochino della Blizzard, dove si cerca sempre di dare risalto alle colorazioni, anche il disegno un pochino molto cartunesco, questo è proprio cattivo, bello. Sembra di rivedere veramente, di rivivere l'epopea di Beowulf, o comunque di Mithin or Reni, un combattente, guardate là, che cerca la morte in battaglia, fatto veramente veramente bene. Guardate anche questo disegno, con un gruppo di nani, qua giù, e vedete un troll delle foreste, che poi, in questa ambientazione, i troll sono quelli della mitologia non re, non avete presente il classico troll che abbiamo visto anche nei miti norvegesi e cose del genere, non è il troll del Signore degli Anelli, alto, grosso, con la clava, ma sono creature brutte, con la testa tra l'altro sproporzionata, con una pelluria disumana, e ovviamente, tante volte, per la maggior parte delle volte, anche loro divisi in clan sono cattivi, ma non sempre, perché ci sono anche altri troll che invece portano la saggezza e la conoscenza, quindi non sono tutti troll che ti prendono fra le mani e ti strappano la testa. E questo è il manuale dell'ambientazione e delle regole di gioco, tra l'altro è pieno zeppo di disegni, fatti veramente benissimo, e un'altra cosa bella, i draghi, in questa ambientazione, vengono chiamati Wurm, appunto come nell'antica mitologia non re, ed è una cosa che a me veramente piace da morire, poi questo stile di disegno, così, che sembra quasi una specie di dipinto, o sembra quasi di vedere una tavola su un libro di qualche razza, è veramente stupendo. Il mondo, perché il manuale del Dungeon Master ci fa, come vi ho detto, anche da manuale dell'ambientazione, e vedete il dio, anzi il padre degli dèi, secondo gli abitanti del Midland e anche comunque della maggior parte delle terre di Trudvang, è il dio Vote, io spero la pronuncia sia buona, comunque il dio Votan, Vodan, come si chiamava, Odino, insomma, poche parole, come vedete anche i nomi, per quanto l'ambientazione non è la stessa, ci si rifà veramente molto da vicino, quindi si va negli dèi tipo Odino, che è il padre degli dèi e il pellegrino che gira per il mondo, e viene rappresentato come una specie di gigante, dalle forme umane ovviamente, però un vecchio gigante altissimo, che porta la conoscenza, ed è colui che ha creato gli esseri umani, poi si va addirittura nel dio sotto la montagna, che ha forgiato con l'incudine i nani, anche qui sempre mitologia norrena, il dio dei boschi, che un po' ricorda Sernunnos, quello dei miti celti, e qui ci fa vedere la mappa del gioco, con tutte quante le zone principali, vedete il Midland, è la classica regione più tranquilla, ma prendetelo fra virgolette, dove iniziare ad ambientare le vostre avventure, però anche sempre nel Midland, è quella regione un po' di passaggio, quella pianura un po' di passaggio, dove appunto sta iniziando anche questo conflitto fra la religione appunto di Votan, io lo chiamo Votan, tanto è Odino, mettiamola così, e questo nuovo unico dio che è arrivato, le terre di Stormland, che poi sono coperte e chiuse da un vallo, perché sono zone ad alto rischio, dove ovviamente si annidano nei boschi delle creature molto potenti, e soprattutto famosa la foresta oscura, che è grandissima, vedete, prende tutta questa zona, che prende tutta quanta la regione di Nordland, che a me un po' la foresta oscura mi ha ricordato Simbarum, la foresta di Simbarum, anche per questo mi è piaciuta, è qua giù, si annidano i Wurm, si annidano i troll delle foreste, questa qui è la classica zona, dove soltanto uno che cerca una morte in battaglia, o un tombarolo oserebbe avventurarsi, perché si rischia veramente di scomparirci velocemente, e poi comunque il manuale, vedete, è pieno zeppo di tabelle, è pieno zeppo di disegni, ve l'ho detto, sempre nello stile fatti a Kina, che a me piace andare a morire, e per la maggior parte questo manuale qui vi spiega tutto, vedete, dal controllo, tra l'altro anche questo disegno bellissimo, vi spiega tutto, il combattimento, come usare l'abilità, equipaggiamenti, danni delle armi, per quanto danno delle armi nella maggior parte delle case, il tiro di un D10, e così via. Bestiario, con un Wurm gigantesco, delle foreste, e anche questo manuale qui, non vi sto a dire che i più bei disegni trovate qua, ma perché è normale, per ogni mostro che viene narrato e descritto, c'è sempre il suo disegno, cioè guardate che cavolo di disegni ci sono, sono veramente di una cosa bella, e poi hanno voluto forse, secondo me, giocare molto sul fatto luce e ombra, e oscurità, col fatto come se fossero creature uscite da qualche incubo, è veramente uno spettacolo, deve mettere un po' di terrore e paura a un gioco del genere, ci sta. Infatti, lo trovo molto simile, come detta, a Simbarum, ed è una cosa che adoro. Creature fatate, dei boschi, che possono essere ovviamente creature magiche, soprattutto nella maggior parte dei casi, e anche qui c'è, vedete, grifoni, poi i disegni tutti fatti, tipo Achina, sono veramente bellissimi, ragno gigante, farà la felicità di mia moglie, che è lì dietro e si tappa l'occhi, se si fa le riprese, razzi di lupi, ovviamente, e poi si va avanti, ragazzi, è un manuale, e questo invece fa paura a me, perché io sono serpentofobo, o sempre serpentofobico, boh, non lo so, qualcosa del genere, poi ci sono i troll, e tutti quanti i mostri di questa ambientazione qui, e ragazzi, c'è da sbizzarri, c'è da sbizzarri, troll, goblin, ovviamente, antichi sepolcri, anche qui, scheletri, zombie e creature risvegliate, soprattutto fantasmi, tornate dall'aldilà, è veramente un attimo, e potete vedere anche voi, quanta carne c'è al fuoco. E poi, si arriva nel manuale del giocatore, dove non trovate regole, occhio, regole per giocare, però, è immenso, e ci trovate veramente di tutto, di tutto, per la creazione del vostro personaggio, quindi qui è l'ABC, dall'A alla Z, tutte quante le basi, per crearvi il personaggio, anche qui ci sono le razze, per quanto le razze del gioco, ora ve le faccio vedere, sono poche, almeno quelle che potete usare, per la creazione vera e propria del personaggio, però poi, io penso che se un dungeon master, giusto, vi dà anche un'alternativa, vi potete anche sbizzarrire. Intanto vi fa vedere le caratteristiche, ovviamente l'altezza, ovviamente il peso, scegliere le caratteristiche nel gioco, scegliere le caratteristiche, è un punteggio, vedete, inizialmente per un personaggio principiante, vi vengono dati 300 punti, uno medio 500, e uno esperto 700, punti che possono essere alzati, nel caso una caratteristica la portiate in negativo, o spesi se la portiate in positivo, le caratteristiche vanno da, più 1, più 2, più 4, meno 1, meno 2, meno 4, ovviamente un più 1, vi leva 15 punti di creazione, un meno 1, invece ve ne dà più 15, quindi potete portare una caratteristica, al massimo livello, ad esempio uno fortissimo, però stupido, che non sa fare nulla, mi viene in mente, anche un po', se vogliamo un Karamon, non molto furbo, di Dragonlance, però fortissimo, a quel punto, e lì li porta la forza al massimo, l'intelligenza al minimo, caratteristiche che poi, sono descritte qui, ad esempio nel carisma, vi faccio l'esempio, più 4, siete una persona talmente carismatica, che quando passa, in un posto, già attira lo sguardo, comunque bellissimo, sa parlare, ha grandi doteratorie, e poi i valori negativi, quindi per ogni caratteristica, vi fa vedere il valore negativo, positivo, e il valore negativo, le varie classi di personaggi, ad esempio lo Skald, il bardo, che è una delle figure, in assoluto più importanti, non è il bardo di D&D, che sona la chitarra, la cetra e lancia incantesimi, il bardo in questa ambientazione, è quello che narra, le vicende del guerriero, è quello che narra, la vicenda del combattente, ma è anche quello, che narra di come è morto, quindi come dice bene, questa ambientazione, nella mitologia norrena, quando un guerriero, cercherà la morte in battaglia, per entrare nelle sale, come potrebbe essere il Valhalla, con i suoi antenati, avere l'onore, di andare direttamente, al cospetto degli dei, come viene ricordato un guerriero, che è morto onerevolmente in battaglia, con la ballata di uno Skald, poi le canaglie, guardate bello, con un nano, con un pugnale, e queste sono un po' le classiche, che potete fare, vabbè classico guerriero, insomma per chi gli piace picchiare e combattere, il mago, e poi arriva il mistico, che è Ragnar, cioè è Ragnar da vecchio, nell'ultima stagione, prima che lo buttassero nei serpenti, oh è lui, è identico, basta punto e basta, e poi ci sono tutte quante le regole, per la creazione del personaggio, ragazzi, non ve le sto ovviamente a spiegare tutta, è bello anche come hanno fatto il disegno, per dividere, che ne so, le abilità di cura, nei vari alberi, nei vari rami, e poi, ve ne prendevo un'altra che mi è passato, quelle di conoscenza divise nei vari rami, perché ovviamente la figura più importante, in questa ambientazione, è l'Igdrasil, è l'albero della vita, e quindi tutto quanto, è fatto nello stile ramificato, e vedete questo, è conoscenza, con tutta l'abilità che potete prendere, cura, con tutta l'abilità che potete prendere, ovviamente si va anche nella magia, e la magia in questo gioco, è vista come magia rituale, magia di vocazione, sì, c'è anche qui scatenare il furmine, e lanciare fuoco dalle mani, però più che altro è magia rituale, magia runica, ecco che entra in contatto con la natura, anche perché le tre formi di magia, sono la magia pulita, quella che gli dèi hanno insegnato all'uomo, la magia segreta, quella che conoscono solo gli elfi, è andata persa, che comunque utilizzarla è sicuramente più potente dell'altra, e la magia è un po' come il lato scuro della forza, la trama, perché sono divise in trame, sono fonti di potere, come l'acqua, come l'erba, questa è tutta fonte di potere, c'è una magia oscura, che invece è molto più potente della prima, non di quella degli elfi, però è anche più sinuosa, e si rischia di perdersi veramente nell'oblio, si arriva in fondo alla scheda del personaggio, che vedete ha tante cose da segnare, perché questi, ovvio, non è che avete tutte le abilità, quindi magari di 50, che ne vedete qui, 60, ne andate a segnare tipo 7-8, però comunque, ci sono diversi numeri, da tenere a mente, e anche di qua, nel retro della scheda, ci sono altri numeri e valori da tenere. Ora, il gioco è legato a delle regole molto semplici, alla fin fine, per il tiro di iniziativa, si va a tirare un dado, e si sommano tutti quanti i modificatori all'iniziativa, modificatori che possano essere dati, da una caratteristica, o da una situazione, sicuramente, se andate a tirare l'iniziativa, e siete più alti di 2 o 3 metri, in posizione di vantaggio rispetto al nemico, potreste avere, magari armati di una lancia, potreste avere un bonus. Si va a tirare il tiro di iniziativa, si vanno a mettere i bonus, o i malus nel caso, e si guarda quanto esce. Se il giocatore, mettiamo a caso, ha fatto 10, e il mostro ha fatto 8, l'iniziativa parte da 20, e arriva a 0, ed è un conteggio alla rovescia, che farà Dungeon Master, perché i giocatori, i dadi dell'iniziativa e tutto, li tirano loro davanti al Master, ma poi, devono tenere tutti i conti, riportati sulla scheda. Allora mettiamo a caso, che il Master parta con il conto alla rovescia, che parte sempre da 20, e va fino a 0, poi successivamente, l'iniziativa può essere anche negativa, quindi magari farà meno 1, meno 2, meno 3, e così via. Partendo da 20, 19, c'è nessuno con iniziativa 19, no, 18, no, 17, nemmeno, 16, si va, quando arriveremo a 10, 10 è il valore di iniziativa dell'eroe, quindi, a quel punto, l'eroe può agire, ma se il mostro avesse fatto 10, e l'eroe 8, quando il conto alla rovescia arrivava a 0, cioè a 10, prima toccava il mostro, agire, e poi dopo magari toccava, quando si passava a 9, poi si passava a 8, e allora dopo toccava il giocatore. Quando si arriva al combattimento, o comunque a fare una prova, voi avete dei punti liberi, che sono legati, alla fin fine sono punti combattimento, comunque della prova, legati alla vostra abilità. Se voi avete un'abilità di combattimento di 10, avete 10 punti. Se avete un'abilità di scalata di 15, avete 15 punti. Questi punti vanno spesi prima di fare il tiro di dado, che è il dado da 20, che ora non ho, ma tanto comunque vi spiego. Quando voi andate a fare un combattimento, dovete fare uguale o almeno dei punti che avete dedicato a quell'azione. Se io ho un valore di combattimento di 10, voglio fare solo un attacco, uno soltanto, e voglio colpire il mostro, e dico, ce li spendo tutti e 10. Il mio personaggio, in questo round, con la sua iniziativa, attacca, punta e basta, lo voglio ammazzare. Tirerò il dado da 20, e devo fare 10 o meno. Ovviamente, occhio, con tutti i bonus, perché magari c'ho un'altra abilità che mi dà più 2, c'ho una spada a due mani che mi dà più 2. Comunque, sommati tutti i bonus, devo fare uguale o meno. Se faccio di più, ho mancato. Oppure potrei dire, voglio fare, invece che un attacco, ne voglio fare 2, quindi, comunque, do al primo attacco, li do, che ne so, 5. Al secondo attacco, li do 5. È più difficile colpire, però magari ne manda a segno 2. O tutte le attrazioni che potete fare, perché magari estrarre un'arma ha un costo di 10. Quindi, se non ho estratto l'arma, come faccio? Che vada a pugni? Cambiare arma ha un altro costo, scappare ha un altro costo, ogni punto a movimento ha il costo di appunto di un punto libero. Quindi devo fare bene il mio calcolo, perché se io agisco prima di iniziativa, e il mostro agisce dopo, io faccio, spreco tutti i miei 10 punti, nell'attacco colpisco il mostro, il troll è ferita una gamba, inizia a sanguinare, il troll non è morto. Ora tocca al troll. Ok, il troll mi attacca, fa il tiro, anche lui per vedere se mi colpisce, vado a difendermi, ma non ti può più difendere, perché te nel combattimento, tutti i punti che avevi, le dedicate all'attacco. Quindi in difesa non ti è rimasto niente, quindi ora non ti può parare. Fai conto che hai usato tutti quanti i tuoi punti, per fare questo attacco, abbassandolo gravemente la difesa, e quindi a quel punto ti beccherai il danno pieno del mostro, senza poterlo schivare. Ragazzi, ci sarebbero tante altre regole da descrivere, io ovviamente vi faccio sempre un'infarinatura, un... voglio dare più che altro un'idea del gioco, però vi assicuro che se cercate un gioco fatto veramente bene nell'antica mitologia nordica, norrena e celtica, e soprattutto un gioco dove, se vi piace un po' la carnificina, e se non state attenti con un paio di colpi, rischiate di essere uccisi e buttati giù, è veramente il gioco che fa per voi. Quindi ragazzi, in conclusione, metto il dadino da 10 qui, quello da 20 l'ho perso sicuramente dentro qualche gioco da tavolo, secondo me è dentro il dungeon del mago folle, te lo dico, eh. Chiudo dicendo che il gioco per me è uno dei più belli che sono usciti finora, il regolamento è molto semplice, per quanto è un po' complesso, e complesso non vuol dire difficile, almeno nella mia terminologia questi giochi, però che ci sono diverse cose da tenere a mente, e anche la scheda, come vi ho fatto vedere, è particolarmente articolata, ci sono tanti valori da tenere a mente, ecco, se siete di quelle persone che vogliono tirare un dado, avere tre caratteristiche, e non possono vedere i numeri, onestamente non è forse tanto il gioco che fa per voi, ma non appunto per cattiveria, o per scelta di questo titolo rispetto ad un altro prodotto, è per il fatto che appunto, la componentistica dei numeri, la parte numerica è molto importante in questo gioco via, abbiamo visto che te puoi avere una caratteristica a 10, quella caratteristica però viene incrementata, nel caso del combattimento sei un'altra abilità, che ti dà un bonus al combattimento, e quindi magari, che ne so, da 10 sali a 12, però magari, se hai anche l'arma a una mano, in corpo a corpo, un'arma bianca in corpo a corpo, una mano ti permette di tirare un dado in più, quindi da 12 vai a 13, perché sommi 3, però se rilevi l'arma e combatti solo a pugni, ci devi rilevare quel più un, e ridiventa un 12, cioè ci sono tanti numeri, ecco, da tenere a mente, quello sì, però sono tutti numeri che avete elencato sulla scheda, quindi alla fine, anche se sulla scheda del personaggio, vedete 300.000 numeri, il vostro personaggio non è che un turno combatte con la spada domani, un turno con quella a una mano, un turno tira, un turno dopo casta, e poi prende un arco lungo rispetto a un arco da caccia corto, non è così, cioè ci vorrà un pochino, però le armi che userete, almeno nella stessa avventura, saranno 1 o 2, dopo 2 o 3 volte che vai a fare il combattimento, e conosci il tuo bonus, non hai più bisogno nemmeno tanto di girarci intorno a questi numeri, però è essenziale, e ve lo dico, è essenziale che voi compriate tutte e tre i manuali, tutte e tre i manuali che ripeto, il bundle dovrebbe essere finito, ma andate a vedere, primo link in descrizione, sito della Weird, se no li comprate separatamente, perché comprate il manuale del giocatore, come potrebbe essere, io ignorantemente magari andavo a comprare un D&D, compravo il manuale della quinta edizione del giocatore, e iniziavo a giocare, quindi non lo potete fare, perché qui c'è la creazione del personaggio, nella guida del Dungeon Master ci sono tutte le regole proprio per giocare, che qui non ci sono, quindi non potete giocare solo con questo, e di qua il bestiario, ora questo forse è quello che non ne potete fare a meno, è meno importante, perché comunque l'ambientazione già vi dice che creature andate ad affrontare, però ci sono tutte quante le caratteristiche delle creature, dei mostri che troverete, quindi alla fin fine è bene secondo me averceli tutte e tre, fate un pacchetto completo, e poi comunque è un pezzo veramente da collezione, secondo me non vi deve mancare, l'ambientazione è bellissima, si sente proprio l'odore, veramente il sapore, veramente il gusto di giocare in un'ambientazione, come quella dell'antica mitologia norrena, ovviamente solo ispirata, e anche dei miti scelti, che poi c'è quella influenza bastarda, dell'unico dio, che si sta provando a insinuare, fra le terre del Midland, fra le terre anche dello Stormland, provando ad andare più avanti, questo unico dio, che è un po' come i cristiani, quando andarono nelle terre appunto di vichinghi, o anche nella Britannia, ai tempi di Artù, e non solo fanno massacri di druidi, e cose del genere, ma cercano di imporre anche il loro unico dio, come unica religione, e tutto il resto è visto come paganesimo, e cose del genere, quindi comunque è un'ambientazione, che si rifà molto da vicino alla reale storia, se devo dargli un voto, gli do assolutamente un 9 su 10, meritatissimo ragazzi, se cercate qualcosa di alternativo, ma soprattutto siete fanatici del Calevala, siete fanatici magari anche di Beowulf, e romanzi del genere, se siete fanatici come me, della serie Vikings, ragazzi questo è il gioco in assoluto, che per non parlare poi di Artù, Camelot, Miticelti, è il gioco, che più di tutti, di quelli provati fino ad ora, fa per voi, e poi questo io lo voglio chiamare il gioco basico, il gioco di partenza, l'ABC, perché se voi ci pensate, tutto il fantasy moderno, non andando a prendere quello magari di fine 800, primi 900, ma tutto il fantasy moderno, bene o male, è nato da una costola di Tolkien, del Signore degli Anelli, andiamo un po' a vedere, che si ritrova sempre l'elfo alto, slanciato e cose del genere, il nano piccolo e tozzo, che mina e picchia da morire come un treno, il classico troll che vive nei boschi, che magari quando li picchia addosso alla luce, diventa di pietra, tutte queste cose Tolkien le ha andate a prendere a piene mani, ovviamente dalla mitologia norrene celtica, quindi questo qui è proprio il classico gioco di partenza, secondo me, che ci rimanda agli albori di quel poi fantasy, che abbiamo imparato a conoscere benissimo, leggendo le varie ambientazioni, e che tutti poi vi si rifanno, perché per la maggior parte il fantasy, proprio la scatola base, il pacchetto base del fantasy, è raccolto tutto qua dentro, è quello che Tolkien ha amato per una vita. quindi 9 su 10 meritatissimo, io ancora una volta ringrazio la World Edizioni, per averci offerto una copia per la recensione, tre copie anzi per la recensione, primo link in descrizione dove acquistarlo, perlomeno andateci a dare un occhio, e poi tutti i nostri social a seguire. Ciao ragazzi, alla prossima!